Vigilia di Eurocup per l'Ortigia di Palannuoto. Dopo circa un mese di preparazione, da domani sarà la Vasca a dare i suoi verdetti. Avversario di turno per la prima sfida del girone di qualificazione, il Montpellier. In allenamento in queste ore c'è grande concentrazione e i ragazzi si stanno impegnando al massimo per mettere in pratica quanto richiesto dal mister. In queste quattro settimane abbiamo lavorato bene, dichiara il tecnico Stefano Piccardo, e siamo fiduciosi. Certo, siamo ancora lontani da quella che è la forma perfetta, ma sono convinto che ci presenteremo a questo appuntamento vogliosi di passare il turno. Riuscirci rappresenterebbe per noi il primo grande risultato di questa stagione appena iniziata. Cercheremo di arrivare concentrati, sapendo che la prima partita non è mai facile. Ci sarà un po' di tensione, anche perché l'esordio in casa, però direi che ci siamo, siamo pronti. Il Montpellier continua Piccardo a due mancini molto bravi, croati, dal lato di destra, più altri due giocatori interessanti, uno di questi è Ivankovic, che abbiamo già trovato l'anno scorso. Poi ha un centro boa bravo e un ottimo portiere che è il secondo della nazionale montenegrina. Insomma, i primi sette sono di livello importante, a dimostrazione che questo non sarà un girone facile. Quest'anno la formazione biancoverde può vantare una rosa più ampia e soprattutto giocatori di grande esperienza internazionale, un fattore che potrebbe fare la differenza. L'Urtigia, infatti, potrà contare dell'esperienza di giocatori come Stefano Tempesti e Valentino Gallo. In una piscina caldarella che si prospetta piena di tifosi, il fisco d'inizio della partita è fissato per le 19.30. Grazie a tutti.